Direttamente dalla capitale, una barzelletta di Giuseppe Castiglia per sito esaurito. Ah, Roma! Che bella città! La città eterna! E poi qui via Veneto, personaggi famosi che passeggiano. Guarda un po', guarda, ti piace? Bella! Eh, ma tu stai sempre chiuso in casa, non conosci nessuno. Ecco, per esempio, quella la conosci, no? Veramente, non tanto. Ma come non la conosci? Ma quella è famosissima, quella è Carmen di dietro. E io veramente la sto vedendo davanti. Ma che c'entra, ma che c'entra? La verità è che tu stai sempre chiuso in casa. Casa e lavoro, lavoro e casa. Devi uscire, devi prendere un po' d'aria, devi vedere gente. Vieni qui in via Veneto e vedi un sacco di gente che passano. Stare sempre chiuso in casa. Ecco, per esempio, quella, quella la conosci? Non so chi è. Ma come? Ma come non sai chi è? Quella è la famosissima Manuela Anguria. Ha quella porta a spasso le sue tette in via Veneto, avanti, indietro. Eh, caro mio, tu stai troppo chiuso in casa. Devi uscire, devi prendere un po' d'aria, sederti qui in via Veneto, prendere un caffè e vedere tutti questi grandi personaggi che passano. Ecco, quella, per esempio, la conoscerai. Senti, io non conosco niente di quella. Ma come non la conosci? Ma quella è famosissima. Quella è Bagascia Stefanenko. Insomma, tu non conosci proprio nessuno. Devi stare un po' fuori, un po' in giro. Devi prendere aria, devi uscire, non devi stare sempre pappato in casa. Eh, oddio, chi c'è? Chi è? È quella, quella che sta passando ora. Ma chi è? Non lo conosco. Non è mica un personaggio famoso. Quello è Saro. Saro? Saro Falsaperla. Saro Falsaperla. Non lo conosco, chi è? Saro Falsaperla. Quello, è quello che si fotte a tua moglie. Cosa? A stare a casa, né tanto.